Oggi è un bel giorno per l'Italia, un bel giorno per l'Europa, è il giorno che aspettavamo da tempo perché abbiamo un'arma in più per combattere contro questo virus. E' chiaramente il primo passo di un cammino che non è breve. Come è noto abbiamo bisogno ancora di molte settimane di lavoro perché il vaccino possa essere somministrato a un largo numero di persone e in queste settimane ci sarà ancora da resistere, da combattere con gli strumenti che abbiamo imparato in queste settimane. Io ci tenevo ad essere qui stamattina per ringraziare tutte le donne e gli uomini del nostro Paese che hanno lavorato incessantemente a questo obiettivo. In modo particolare il nostro personale sanitario, i nostri medici, infermieri, professionisti che hanno fatto un lavoro straordinario. Oggi li ringraziamo tutti. Io voglio abbracciare in modo particolare il personale dell'Istituto Spallanzani che sin dagli ultimi giorni di gennaio è stato in prima linea in questa battaglia. Proprio qui abbiamo incontrato per la prima volta il virus nel nostro Paese. Io ricordo quelle ore drammatiche quando ricevetti quella prima telefonata in cui mi veniva detto che c'erano due casi di turisti cinesi a Roma che avevano incontrato il virus. E ora, anche simbolicamente, abbiamo voluto ripartire proprio da qui. E allora il mio messaggio è molto semplice, mi fermo. Abbiamo uno strumento tra le mani che ci può consentire di vincere questa sfida, ma servirà ancora tempo, cautela, prudenza, attenzione. Gli italiani hanno dimostrato in questi mesi di essere straordinari con la loro capacità di rispettare le misure e di essere all'altezza della sfida. E io sono convinto che anche in questo passaggio sapranno dimostrarlo di nuovo, perché il vaccino è veramente la chiave per provare ad uscire definitivamente da questa pagina di storia così difficile che tutti quanti abbiamo attraversato. Grazie a tutti voi, grazie in modo particolare al nostro personale sanitario e sono convinto che insieme l'Italia vincerà questa sfida.